Le chiediamo che cosa pensa di quello che ha appena visto, delle grandi novità di Antonio Lupi, di questo slogan Antonio Lupi di quest'anno che è il passaggio dal bagno alla cucina è breve, quindi anche un'opinione su quello che è la cucina, l'ambiente cucina e se trova che ci sia una continuità con il classico stile Antonio Lupi. Allora, vi ringrazio innanzitutto dell'invito, è interessante in quanto, diciamo che mediamente rispetto all'aspetto Antonio Lupi, quest'anno ci sono delle grandi innovazioni che sono soprattutto proiettate molto in legno, un po' alla rivisitazione del classico, infatti si vede dalle basurie, dagli accessori, ma anche e soprattutto dai basamenti, quelli che sono i lavabili, le forme molto sinuose rispetto a quelle, diciamo un pochino più, qui era vicino Antonio Lupo fino a due anni fa quello che ha presentato. Per quanto riguarda i colori, innanzitutto sono tutti i colori nuovi perché è sempre stato solo un neutro, quest'anno finalmente si vede un po' di colore. Per quanto riguarda la cucina è un'innovazione, sicuramente andrà poi vista come, che sviluppi prenderà, interessante e vedremo, vedremo come si evolverà in futuro. Finalmente un po' di colore si vede, che dopo questi minimalismi rigorosi, assoluti, secondo me ci stava, un po' più gioioso anche come cosa, come ambiente, come idea. La cucina è una novità anche per me assoluta, non sapevo, l'ho vista per la prima volta, trovo un progetto interessante, questo monoblocco bianco con anche questa mensola, mi sembra anche funzionale, un bel progetto, spero che l'abbinamento bagno-cucina è sempre più indicato perché la signora Maria probabilmente compra la cucina e sceglie il bagno, il marito fa fare tutto il resto, quindi i due target sono quelli, lo stesso cliente, quindi penso un progetto vincente. Direi le tecnologie sono molto simili, l'ambiente è diversa, dunque c'è da fare sicuramente una bella mossa su questo campo, ma tecnologicamente penso che poi siamo in ambiti relativamente simili perché abbiamo sempre l'acqua, la luce, la tecnologia, come sempre la scelta dei materiali che è fatto con molto cura, il minimalismo, la lettura del progetto è un progetto Antonio Lupi e non si può sbagliare e dunque nel mondo della cucina sicuramente mancava un'azienda che ha le spalle come l'Antonio Lupi che riesca a innovare, creare la sorpresa come sono riusciti a farlo nel mondo del bagno. Io credo che è molto bello, la cucina è molto futuristica, la forma che il mondo è ora che stia attraversa, stia attraversa, stia attraversa, stia attraversa, stia meno e meno, e lo che vedete nel prodotto che Antonio ha presentato, è molto seguendo le sasto che fuori alla stia attraversa, potentes che ha molto attraversa, attraversa di il nuovo uomo del futuro. Tipo, per il mio impressione sia tra il suo buone, è stato veramente very minima, è detto che mi piace molto, molto semplice, molto semplice, e soprattutto l'avere tutto in coriore. E' un materiale che è molto in vogue, abbiamo lavorato molto in plan di lavoro, perché abbiamo fatto altre marco, ma l'avere anche in faccia, e soprattutto l'avere, come d'habitude, è super finito di Antonio Lupi, a proposito dei ammettere interiore. E il modo molto semplice, in parte ha, avere un'hote integrazione e una tablette che corrispondono bene al design che proponiamo attualmente. La cucina è sicuramente molto bella, il taglio è giustissimo, la qualità mi sembra molto buona, ho visto le finiture, il cancio delle cerniere, le chiusure, è costruita molto bene. Antonio Lupi mi piace molto, perché ha sempre questo design molto particolare, e lo seguo molto negli anni, e mi piace questa svolta anche sulla cucina, è veramente molto interessante. Molto positive, soprattutto per quanto riguarda la novità che ho trovato al salone, che è appunto la cucina, una bellissima cucina, con delle linee molto innovative, secondo me, soprattutto nella parte alta. La cup integrata l'ho trovata molto interessante, vabbè, il materiale Corian, ormai un materiale che conosciamo benissimo, una bella cosa. E poi, invece, per quanto riguarda i bagni, ci sono delle cose assolutamente innovative, nuove, che trovo, che c'è stata una svolta, appunto, nei prodotti della Lupi. Ho visto, appunto, i lavabi con i piedi, con questa struttura in legno, che è una cosa abbastanza nuova. Ottimo inizio, materiali contemporanei e del momento, la pulizia delle linee è molto importante, la cura delle gole, e la linea, diciamo, è assolutamente apprezzabile. Come sempre, Antonio Lupi, anche quest'anno, è riuscito a stupirci, con un prodotto chiaramente, particolarmente strano, soprattutto per il suo stile, per il suo mondo, per la sua realtà. È riuscito, probabilmente, anche quest'anno, a colpire l'immaginario di tutti, io compreso, con un prodotto che probabilmente si colloca in una situazione completamente diversa di dove è andato lui fino adesso. Qui vedo uno studio molto, definiamolo, borghese, molto intelligente, giusto per case, di un certo livello, che ha abbandonato un po' quello stile molto pulito, molto minimalista, per arrivare forse a uno stile un po' più anni 50, quello del design italiano, quello giusto, quello, penso, di Porta Lupi, penso, quello di Caccia Dominioni, di Gardella, di quel mondo lì, e poi dopo la cosa forse che mi ha colpito più di tutti è la cucina, la cucina è estremamente interessante perché anche qui Antonio Lupi è riuscito a fare non una cucina, ma la cucina Antonio Lupi, che secondo me è quello che andrà a caratterizzarlo, perché se uno si fa un giro all'Eurocucina non vede niente di simile, vede una cosa che è unica. Non come in the last few years Antonio Lupi was very minimalistic, you have now a little bit of the classical touch and a little bit of retro, which is very nice combinable with classical interiors also, and that's why I like it actually, and this smooth touch of the soft shapes and not only quadratical forms, it's also a very nice new invention of, and it's surprising, but it was, we were expecting it from Antonio Lupi to do a kitchen, yes, because soon they do more and more, so it was time to do it. I think it's very nice because for me it's more human, it's more soft, it's more... Well, the truth is that, well, as always Antonio Lupi, the new things are impressive. It's surprising every year. I was also in Bolonia watching the stand and the other thing. It's surprising to me the place in scene, it's always, always, always. It's been impacted from the kitchen, that's the moment of the white suspended, that's the moment of the white suspended, that's the moment of the white suspended, that's the moment of the chimenea. With the heat that he has, it's also surprised me a lot. Yes, yes. It's a beautiful place, because it's been a long time ago I didn't see so many chimeneas together in a bathroom area. The truth is, yes, it's very, very, very beautiful. It's very beautiful and very beautiful the new ones. The mix of something classic with something modern, a little vintage, the truth is something very, very new. Well, it's a... It's not a surprise anymore because with Andrea every year it's a surprise. I know her from many years, everything so many years ago. It brings us all to the history of the Andalusia The first time thisんです, the news, it can be really, it's a change and a change to a change, which is a very interesting event, which is really interesting. Thank you very much. It's interesting because we're looking at it La cucina più, come si intende un po' oggi, una cucina che è una zona giorno più che una cucina vera e propria rinchiusa nel suo ambito tecnico di cucina, quindi con uno spazio molto ampio proprio perché c'è un po' questa tendenza di andare verso delle cucine che fanno quasi una sala soggiorno allargato, grandito. Il architetto José Luis García, di Colombia, sta qui in visita in l'Ostena Antonio Lupi che già conosce, mi ha detto che è già un cliente di Antonio Lupi e vorrei ascoltare la sua opinione sulle le novedate e in particolare il tema della cucina. La cucina, un diseño molto limpio, credo che le va a funzionare la idea di entrare in la cucina, è qualcosa che si limpia facile, si vedo che ha stato molto pensato tutto il diseño, con nuovi materiali, ha la fibra di carboni, le cajoni e ciò, un po' più, credo che sono un' tendenza molto buona, molto agradabile e suave per il diseño. In l'Ostena Antonio? Exactamente. Io credo che Antonio Lupi ha sempre le lezze posizioni in design e in ogni exzibizione ha presentato alcune cose molto interessanti, alcune idee che sono molto interessanti per i nostri clienti e i clienti. e i nostri clienti sempre conoscevano che se chiedono Antonio Lupi, è il migliore, il migliore di design e anche funzioni.